Il piano asfalti per Teramo è pronto, redatto per la prima volta dall'attuale assessore Valdo di Bonaventura, stenta però a partire per problemi procedurali e burocratici. In città nelle frazioni limitrofe la situazione è allo stremo, con strade dissestate, buche pericolosissime, senza parlare dei marciapiedi sui quali ogni giorno si registrano cadute dei passanti. Il Movimento 5 Stelle attacca duramente l'amministrazione comunale per questi ritardi e punta il dito soprattutto contro gli uffici e i dirigenti tecnici incaricati dell'attuazione del piano. Le riceve ogni giorno, a proposito di asfalti, dei messaggi anche abbastanza drammatici? Certo, potrei farle vedere, anzi glielo faccio vedere il mio cellulare, questo messaggio che ho ricevuto proprio questa mattina di una signora, di una cittadina che abita in una piccola frazione. Vicino Teramo e parlandomi della sua strada, dicendomi che il sindaco si era impegnato a risolvere la situazione entro breve tempo, mi ha ricordato, se le vuole leggere, che c'è una persona malata, c'è un diabetico che è abbastanza grave e anche la signora che scrive è malata e dovesse succedere qualche cosa, l'ambulanza non può accedere in questa piccola frazione, per com'è ridotta la strada. Quello degli asfalti non vuole essere un punto fisso dell'opposizione, assolutamente, è soltanto un problema reale che la città e i cittadini hanno. Si è un po' strumentalizzato anche un nostro post che diceva che volevamo la, tra virgolette, frase bruttissima, la testa di Valdo di Buonaventura. Assolutamente, politicamente è l'assessore che risponde per l'operato dei suoi uffici, ma in realtà sappiamo che è stato gestito tutto male dagli uffici stessi. E intanto ricomincia la scuola, tra qualche giorno. Intanto ricomincia la scuola, intanto tornerà il maltempo e intanto le buche che c'erano l'anno scorso sono aumentate e continueranno ad aumentare. Scende in difesa dell'assessore di Buonaventura la lista Teramo Vive, che ricorda lo sforzo fatto dall'amministrazione per rastrellare e reperire fondi per gli asfalti in una città ridotta economicamente all'osso. Gli interventi dunque ci saranno, ma è ancora incerta la data d'inizio e si sa bene che l'inverno non è un buon periodo per lavorare sulle strade.